Abbiamo avuto un faccia a faccia io e il presidente, non c'erano più i presupposti per andare avanti e di comune accordo abbiamo deciso di farmi mettere tra gli svincolati. Adesso quale sarà il tuo futuro? Continuerò ad allenarmi in attesa di qualche squadra che mi chiami per iniziare una nuova avventura. Speri di tornare in corsa prima di marzo oppure aspetterai? No, senza fretta, comunque continuerò ad allenarmi e al momento giusto valuterò la squadra dove andare a completare il campionato. C'era stato qualche contatto con il Sandamasa, confermi? Sì, vabbè, un mese fa però poi non si è concretizzato, anche perché il presidente aveva dichiarato che non eravamo cedibili. Se ti dovesse richiamare il Sandamasa? Valuterò come ho anche fatto un mese fa.